il simbolo ma il marchio lo porto sempre addosso c'è problema andiamo col bmw che mi ha regalato mia cognata a comprare una bmw elettrica andiamo che mi ha regalato la mia cognatina ok allora partiamo per andare a provare questa moto come moto elettrica ma che marca è gabriel bmw e proviamo allora che dice allora vd figlio c'è tanto tempo acquisti dalla zero perché ce lo sa che viene per la lira l'importante è provare vai la d che costa più lo scarico nuovo che facciamo il rosso 3 diablo gabriel che tu che ci dici c'è che non fa il rumore perché a cambio che ha fatto ecco che significa che non cammina no 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 non levare il cavalletto ma salite sopra senza levare il cavalletto ma c'è la vuoi limitare? no te lo staiolo per davvero non ci stai l'atteremo ancora Lascio questa dalla macchatura massima Ok, vai Allora, saliamo, piano sul freno, cavalletto giù Accendiamo Sempre il freno, sempre tirato Ok, accendiamo la moto Per accendere giro la chiave e basta? Abbiamo acceso, ok Adesso prendiamo il passante dell'energia Adesso in giù, ci siamo Adesso, se tutti avete il cerchietto verde, sono accese L'ultimo livello è il cavalletto Sempre piede sul freno Togliamo il cavalletto Ok, adesso provate poco poco a dare i gas Poco? Sì, non so, scusate Aspetta Ci siamo Capriamo, vedi Magno, eh Bene, Capriamo Dopo c'è il tempo per superare Siamo? Vai, vai Sto attaccato un po' Sì, non so Sì, non so Sì, non so Sì, ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, freno di brutto. Recupero? Recupero la corrente? Sì, sì. Siamo con le cellule quando freni. F***a, oh, porca miseria. Forte ma... Vabbè, io peso di più, quindi loro me ne copre. Però è fatta... No, questa devi provare in freeride. Trash. Ci siamo? Vai, vai. Ok. 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 Impressione a caldo Forte e forte Impressione a caldo